Rocambolesca confitta casalinga per il diavolo che dopo aver dominato nel primo tempo sprecando più occasioni per chiudere la gara, nella ripresa si vede rimontare dei marchigiani grazie al portiere Tozzo in occasione del gol del pari. Guidi deve rinunciare a Chiere Matenga e Trasciani infortunati e conferma la stessa formazione di domenica a Modena. Birligea parte ancora dalla panchina, la Vispesaro senza Cannavos qualificato e con De Respinis e Gucci il tandem d'attacco 3-5-2 il modulo. Teramo parte forte, determinato, sospinto dal tifo della Est e al sesto minuto passa in vantaggio. Assis di Bois per la corrente Malotti che da due passi la mette dentro. Doccia fredda per la Vispesaro che non riesce a giocare e soffre il pressing alto degli abruzzesi. Al nono ci prova Rubin, il tiro al volo alto. Il gioco è nelle mani dei padroni di casa che continuano a spingere e sfiorano il raddoppio. Prima al diciottesimo con un'azione tutta di prima a Ziosmanovic per Malotti che serve in profondità rosso che solo davanti al portiere si fa respingere la sfera. Spinge ancora il diavolo e al trentesimo è Bernardotto a fallire incredibilmente il secondo gol. La conclusione viene deviata in angolo da un difensore. 1-0 alla fine della prima frazione. La ripresa è favorevole ai marchigiani che in pochi minuti capovolgono il risultato. Prima al cinquantaquattresimo la Vispesaro pareggia su un disimpegno errato del portiere che esce goffamente. Gucci lo anticipa di testa. Il Teramo perde Mungo anche al sessantasettesimo costretto ad uscire. Gli subentra Rossetti. Un minuto dopo la Vis raddoppia con De Respinis che raccoglie il cross dalla destra di Saccani sfuggito ad Aziosmanovic e infila Tozzo per la seconda volta. Teramo ora in difficoltà. Non riesce più la squadra di guidi a costruire azioni degne di nota nonostante gli ingressi di Birligea per Rosso e Rillo per Aziosmanovic. All'ottantaquattresimo la conclusione di Malotti viene deviata dal portiere in angolo. Non è finita. La squadra di guidi ci prova ancora in altre due occasioni ma la difesa della Vis stringe i denti e regge e nei minuti di recupero ci prova a Rigoni. Altro miracolo del portiere. Finisce 2-1. Una sconfitta pesante per il diavolo che resta nei bassi fondi della classifica. È sabato ancora in casa contro Limolese alle 17.30.